Qualche settimana fa la notizia che cinque alberi sarebbero stati donati dai cittadini di Casa Lauro al comune di Ischia per riempire zone spoglie del territorio. Come si ricorderà, i residenti della zona si erano battuti a lungo per la messa in sicurezza di un leccio pericolante che si trovava all'inizio di via Antonio De Luca. L'albero però non si è potuto salvare e per garantire la pubblica sicurezza, dopo una serie di consulenze tecniche, il comune è stato costretto ad ordinarne l'abbattimento. I cittadini della zona, se da un lato accolsero con soddisfazione la notizia della messa in sicurezza della strada, dall'altra non furono certamente contenti per la sorte del leccio e decisero di compensare l'abbattimento del grande albero, regalando al comune due carrubbi da posizionare lungo via Antonio De Luca e tre pini, uno per la pineta Mirtina e altri due per sostituire quelli che sono stati abbattuti in via Sogliuzzo, nei pressi del bar La Violetta. Proprio da questi ultimi è iniziata stamattina l'operazione di piantumazione effettuata dagli addetti di schiambiente, che entro la prossima settimana posizioneranno anche tutti gli altri.